Dall'inizio dell'anno l'oro è passato da 1.850 dollari l'oncia a oltre 2.000 dollari con un rendimento pari al 10%, superiore al rendimento dall'inizio dell'anno dell'S&P 500. E dopo aver approfondito in questo video perché e quali banche centrali stanno comprando oro in questo momento, in diversi avete chiesto maggiori informazioni relativamente all'investimento in oro. Comprare oro o no? Quanto? Il 10, 15, 30% del portafoglio? In questo video approfondiamo proprio questo tema e in particolare ci concentreremo sul capire se e perché ha senso inserire oro all'interno del proprio portafoglio, quali aspettative avere dall'investimento in oro e in quale modalità è più logico inserirlo all'interno del nostro portafoglio di investimento. Approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video. Iniziamo! Dopo un periodo come il 2021 in cui si parlava di innovazioni come la blockchain, adesso siamo ritornati a parlare dell'investimento più vecchio al mondo, il buon vecchio investimento in oro. E trovo particolarmente divertente questa vignetta dove si vede l'ufficio di un hedge fund, un fondo altamente speculativo, quei tipici fondi guidati da quegli squali della finanza stile Wall for Wall Street. Ok? Un fondo specializzato nell'acquisto di strumenti derivati altamente complessi e strumenti finanziari esotici e dall'elevatissima complessità inarrivabile agli investitori in cui adesso si parla di comprare oro. Quindi l'obiettivo di questo video è darti un paio di informazioni molto importanti per approcciarti nel modo giusto all'investimento in oro. Perché molto spesso le persone si affascinano da quella che è la novità del momento, come è stato ad esempio il fascino per tutto il mondo blockchain nel 2021, ma pochi capiscono come investire in quello che è uno degli strumenti più importanti da inserire all'interno di un portafoglio. Sarà anche perché è la riserva di valore all'interno delle banche centrali? Sì, potrebbe essere un'altra ragione per cui ha senso approfondire l'investimento in oro. E questo video è un po' il proseguo di questo video che pubblicammo in un altro momento in cui l'oro stava toccando nuovi massimi. Perché quello a cui stiamo assistendo oggi è un nuovo massimo. Infatti dal 2020 l'oro era arrivato quasi a 2.000 dollari l'oncia, poi ha perso un po' del suo vigore nel 2021 perché c'era meno rischio percepito nei mercati finanziari. Nel 2020 c'è stata una gran corsa all'oro proprio per le paure derivanti dalla pandemia. Il 2021 invece ha visto un rilancio di tutto il comparto azionario e quindi l'oro ha performato peggio, ma nel 2022 è ripartito e adesso è ai massimi degli ultimi due anni, ma anche degli ultimi cinque anni. Diciamo che è ai massimi di sempre. Infatti è appena sopra i 2.000 dollari l'oncia. Se quindi te lo sei perso ti rinnovo l'invito a riguardare questo video, link in descrizione, perché daremo per scontato un paio di concetti di base su perché ad esempio l'oro è una riserva di valore. Quindi per mantenere questo video al di sotto delle tre ore daremo per scontato alcuni dei concetti già spiegati nell'altro video che puoi guardare autonomamente alla fine di questo video. Rimani con me perché la prima cosa che dobbiamo approfondire è un concetto di base che l'oro è una classe di investimento un po' atipica. Non è come azioni e obbligazioni. L'oro ha un elemento di scommessa al suo interno e che mondo dice ma da quando l'oro è una scommessa? Citando una frase che ho detto in questo video. L'oro non è una scommessa. Nel video ho detto che ha elementi che lo rendono paragonabile sotto certi aspetti ad una scommessa. Perché? Cerchiamo di capirlo in questo video. Se confrontiamo l'oro con le altre principali classi di investimento in cui puoi investire un investitore che sono azioni, obbligazioni e immobili. Ma per immobili non intendiamo casa tua, ma immobili a rendita, quindi un RIT, un portafoglio di immobili a rendita, ok? Bene, queste tre classi di investimento hanno una caratteristica in comune, cioè producono flussi monetari. Un'azione rappresenta una quota del capitale sociale di una società, la quale società se non fallisce produce degli utili e distribuisce questi utili sotto forma di dividendi e i dividendi se li incassa l'investitore. Per un'obbligazione è la stessa cosa. L'obbligazione, se la compro io come investitore, questa produce degli interessi e gli interessi è un flusso monetario che entra nelle tasche dell'investitore. Un portafoglio o anche solo un immobile a rendita produce un flusso monetario che sono gli affitti. Quindi il fatto che ci sia un flusso monetario distribuito dall'investimento rende l'investimento più semplice sotto certi aspetti, perché il flusso monetario è uno dei responsabili del guadagno dell'investimento. Io da un investimento posso guadagnare in due modi. Posso guadagnare appunto se questo investimento, questa cosa che compro produce un flusso monetario, quindi mi dà dei soldi e posso guadagnare dall'apprezzamento, anche detto guadagno in conto capitale. Quindi compro questa cosa a 100 domani la rivendo a 200 e ho guadagnato 100 di guadagno in conto capitale appunto. Bene, azioni, obbligazioni, immobili, a rendita generano entrambe queste componenti di guadagno, il guadagno in conto capitale e il flusso monetario. E per l'oro? Per l'oro non vale la stessa cosa, perché l'oro non produce flussi monetari, essendo una materia prima che viene stoccata all'interno di un cavo o che magari è sotto forma di gioiello in una cassetta di sicurezza all'interno di una banca. L'oro non produce flussi di cassa, quindi se vogliamo guadagnare dall'oro, come possiamo fare? Ci rimane l'altra componente di guadagno, che è il guadagno in conto capitale. È quello che non è stato compreso da chi ha lasciato questo commento. Il guadagno in conto capitale presuppone un elemento di scommessa, perché io guadagno solo se trovo qualcuno disposto a spendere di più per comprare il mio oro. In altre parole, se io compro oro oggi alle quotazioni di 2.000 dollari loncia, guadagno solo se l'oro salirà. Non posso guadagnare detenendo l'oro per 10 anni se il prezzo rimane a 2.000 dollari loncia, o a maggior ragione non posso guadagnare se questo cala. Questo non accade con le azioni, perché chi investe in azioni è ben consapevole che anche se il prezzo non va da nessuna parte, come ad esempio questo è l'andamento a un anno dell'oro, perché nell'ultimo anno è lateralizzato, è partito nella sua crescita più o meno da inizio di novembre. Bene, l'investitore in azione che per un anno non vede la crescita del suo titolo azionario, dal punto di vista del prezzo, può comunque guadagnare dai dividendi che l'azienda o l'ETF azionario che ha acquistato, bene, i dividendi che questi vengono generati e distribuiti. Questo è un aspetto da avere ben chiaro, perché chiaramente l'oro si muove solo ed esclusivamente sull'evoluzione della domanda e dell'offerta di oro. In altre parole, se la domanda aumenta di oro, ed è quello che sta succedendo adesso perché le banche centrali ne stanno comprando a man bassa, come abbiamo visto in questo video, se te lo sei perso il link in descrizione, allora se aumenta la domanda aumenta il prezzo e se non aumenta la domanda il prezzo cala. E se magari lo rivendi tra 10 anni potresti aver avuto una perdita in conto capitale e potresti non aver avuto un guadagno di alcun tipo, perché l'oro non produce flussi monetari, per l'intero periodo di detenzione. Il valore dell'oro, come dice Stefano in un video in cui si parlava di Bitcoin, è completamente soggettivo. E questo è indiscutibile, perché appunto il prezzo dell'oro dipende dalla domanda e dall'offerta. E visto che l'offerta è limitata, perché il nuovo oro che viene estratto ogni anno è una quota molto piccola dell'oro che è in circolazione, che è e che quindi può essere acquistato, bene se l'offerta è limitata il prezzo varia al variare della domanda. Chiarito questo approfondiamo un altro paio di aspetti fondamentali per quanto riguarda la comprensione dell'investimento in oro. Antonio dice l'oro è valore risparmio al sicuro dall'inflazione. Siamo proprio sicuri? Sì, cioè se guardiamo cosa è successo nel 2022 è indiscutibile che l'oro abbia tenuto il prezzo, riga nera, anzi abbia generato un minimo guadagno molto meglio di quanto non abbia fatto l'S&P 500 che ha perso un 20% o Bitcoin che ha perso il 65%. Tutti i dati del 2022. Però nel 2022 non ho i dati precisi, ma l'inflazione è sicuramente stata molto superiore all'1,23%, parliamo del 7, 8, 10% per l'Italia. Dipende dal periodo di analisi, però sicuramente l'inflazione è partita più o meno nel secondo terzo trimestre del 2021, quindi comunque ampiamente sopra nel 2022 l'1,23% che ha avuto come guadagno l'oro. Quindi non possiamo dire che l'oro sia un valore al sicuro dall'inflazione, quantomeno non nel breve periodo, perché il 2022 è la dimostrazione di un anno in cui l'inflazione è stata molto superiore all'apprezzamento dell'oro. Un'idea che devi portarti a casa, che commentavamo assieme al mio socio Dario con un cliente in consulenza, è che non esiste un investimento che compensa l'inflazione in modo preciso anno su anno. Non esiste neanche un titolo di Stato indicizzato all'inflazione è preciso nel darti esattamente un rendimento pari all'inflazione del periodo. Ogni investimento risponde in modo diverso all'inflazione, sia nel breve periodo, sia nel medio e lungo periodo. Quindi la frase di Antonio, l'oro è risparmio al sicuro dall'inflazione, non è verissima nel breve periodo, lo è sicuramente di più nel medio e lungo periodo. E in questo grafico vediamo il rendimento di lungo periodo dal 1980 al 2022 dell'oro rispetto all'inflazione. L'inflazione è cresciuta costantemente anno dopo anno negli ultimi 40 anni, l'oro però per molti anni ha sottoperformato l'inflazione. Poi ha avuto una grande crescita durante la crisi del 2009, ovviamente come bene rifugio per eccellenza gli investitori ci si sono andati a rifugiare in un momento in cui c'era paura per la tenuta dell'intero sistema finanziario. Poi un altro decennio di sofferenza per gli investitori in oro, fino ad un altro periodo in cui l'oro è tornato di interesse per gli investitori. Perché? Perché durante la pandemia c'era una paura generalizzata. 2021 abbiamo già commentato meno domanda da parte degli investitori nell'acquisto di oro. Fine 2022, inizio 2023 stiamo assistendo ad un nuovo massimo. Ma se quindi contestualizziamo la crescita dell'oro nel medio e lungo periodo, quello che notiamo è che da solo non possiamo dire che l'oro sia un elemento che protegge il nostro potere d'acquisto dall'inflazione. In certi momenti non ha protetto. Guardiamo cosa è successo dal 2010 al 2020. Chiarito meglio quindi che cos'è l'investimento in oro e che cosa aspettarsi dall'investimento in oro, che sì è uno strumento che ci protegge dall'inflazione, ma non in modo preciso, non anno su anno, su orizzonti temporali di lungo periodo e potenzialmente può non compensare l'inflazione anche per 5, 7, 10 anni di fila. Adesso concentriamoci sul perché oggettivamente l'oro in questo momento è in una condizione di particolare interesse da parte degli investitori, perché c'è una grande domanda d'oro. Sicuramente ne abbiamo già parlato appunto in questo video, link in descrizione. Sicuramente in questo periodo stiamo assistendo ad una velocizzazione di quel processo di dedollarificazione, sembra un gioco di parole, che abbiamo già commentato. Quindi un fenomeno in cui i paesi emergenti all'interno del blocco BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, ma si stanno aggiungendo anche l'Egitto, potenzialmente la Tunisia, altri paesi del sud-est asiatico. Bene, tutti questi paesi vogliono scollegarsi il più velocemente possibile dai pagamenti effettuati in dollari. In questi ultimi video che abbiamo pubblicato ti abbiamo spiegato la relazione tra il prezzo dell'oro e il valore del dollaro. Dal momento che l'oro è quotato in dollari, quando il dollaro si apprezza, solitamente il prezzo dell'oro si riduce. C'è una relazione inversa. Quindi il fenomeno di dedollarificazione è un fenomeno che dovrebbe avere l'effetto di un vento favorevole per l'oro, perché una dedollarificazione vuol dire una riduzione del valore del dollaro e di conseguenza un potenziale aumento del prezzo dell'oro. Una seconda ragione per cui l'oro potrebbe continuare ad avere rendimenti interessanti nel breve medio periodo è che potenzialmente stiamo assistendo ad un rallentamento dell'economia. Faremo un video a riguardo, anzi se l'argomento ti interessa faccelo sapere, scrivi qualcosa tipo qual è lo stato di salute dell'economia? Se vediamo che il tema è di interesse faremo un video di approfondimento. Sicuramente al di là di un rischio recessione l'economia è rallentata rispetto al 2021 e al 2022 e quindi ne abbiamo parlato in altri video stanno diventando più probabili, più realistici scenari in cui le banche centrali dovranno abbassare i tassi di interesse e magari un domani riportarli a zero, riavviare strumenti come il quantitative easing, quindi strumenti di stimolo monetario per dare sostegno all'economia. Chiaramente visto che l'oro non produce flussi monetari e c'è un costo opportunità nel detenere oro, questo costo opportunità è minore se i tassi di interesse sono bassi o tendono ad abbassarsi e di conseguenza è un possibile ulteriore vento favorevole per gli investimenti in oro. Ultimo aspetto non trascurabile sono le tensioni geopolitiche, in questo momento siamo ai livelli più elevati di tensione tra l'Occidente e l'Oriente fondamentalmente, su due fronti da un lato l'Ucraina, un fronte ormai aperto da oltre un anno e dall'altra parte anche su Taiwan. Questo deterioramento delle relazioni tra Occidente e Oriente chiaramente induce ansia agli investitori che potenzialmente potrebbero andare a trovare rifugio nel bene rifugio per eccellenza che l'oro. Questi tre fenomeni li abbiamo un po' a pezzo e bocconi già commentati in altri video e Sergio commenta, ma se lanciassero, si riferisce ai paesi emergenti di cui abbiamo parlato in un altro video, se i paesi emergenti lanciassero una nuova valuta basata su oro, a quanto potrebbe salire il prezzo dell'oro? Chiaramente la risposta è nessuno può saperlo perché nessuno può stimare quanto sarà la domanda futura di oro, una cosa è certa, come abbiamo visto prima, un processo di dedollarificazione, di creazione di una valuta parallela che possa essere usata da tutti i paesi BRICS che ormai sono responsabili di un prodotto interno lordo più alto dei paesi dei G7. Se questa nuova valuta avesse un valore legato all'oro o alle materie rare, chiaramente questo richiederebbe nuovi acquisti di oro da parte delle banche centrali dei paesi BRICS e di conseguenza un impatto positivo sul prezzo dell'oro perché aumenterebbe la domanda. Quanto positivo? È difficile da dire. E lo so cosa starai pensando in questo momento. È l'ora di investire tutto il nostro patrimonio in oro, vero? Oppure come scrive Walter, comprare quando è al massimo, quindi adesso. È una buona idea? Conviene? Poco sotto il commento di Walter Patrizio dice comprare oro adesso è da pazzi, tra non molto è normale che avrà un crollo, quella volta sarà da comprare. Quando si parla d'oro? Dal momento che non ci sono flussi monetari. E questa è la ragione perché sotto certi aspetti ha degli elementi che lo rendono assimilabile ad una speculazione. È impossibile stimare l'evoluzione del prezzo perché dovremmo stimare l'evoluzione della domanda di oro ed è dannatamente difficile per non dire impossibile. Con un'azione sarebbe molto diverso perché possiamo stimare l'evoluzione degli utili di questa azione, di questa azienda e di conseguenza anche quanti dividendi erogherà ai propri investitori. Quindi se in questo momento sei interessato all'investimento in oro devi innanzitutto essere consapevole, come dice Lucio che se se ne parla su YouTube è giunto il momento di vendere. In realtà voglio fare una precisazione, non è che è giunto il momento di vendere, è sicuramente un momento in cui c'è molto interesse relativamente all'oro e quindi verosimilmente non lo stai comprando alle migliori quotazioni degli ultimi anni perché sei ai massimi. Allo stesso tempo l'idea di Patrizio a mio parere non è particolarmente efficace perché lui dice aspettiamo a comprarlo quando ci sarà un crollo, come se Patrizio potesse prevedere un futuro crollo dell'oro. L'evoluzione del prezzo dell'oro è imprevedibile nel breve periodo, è molto più imprevedibile dell'evoluzione dei prezzi di altre classi di investimento. Questo è il messaggio. Quindi se lo inseriamo all'interno del portafoglio deve essere fatto con un approccio strategico di medio lungo periodo e magari con un approccio tattico di breve periodo possiamo aggiustare i pesi, possiamo renderlo un po' più presente all'interno del nostro portafoglio oppure se magari ci sono meno rischi percepiti, un po' meno presente, ma una quota d'oro proprio alla luce di questo suo elemento speculativo che ci rende difficile capire quando è il momento giusto per acquistarlo, bene una quota d'oro ci dovrebbe essere più o meno sempre all'interno del portafoglio. Maria chiede Giorgio Pecoraro, Pecoraro? Tu investi nell'oro? Sì, certo, con una quota del mio portafoglio ed è quello che consigliamo di fare ai nostri clienti in consulenza ed è una quota che può aumentare o ridurre in base all'evoluzione della domanda di oro. Come investire in oro? Chiede Giulio. Beh, abbiamo due opzioni per investire in oro, possiamo comprare l'ingottino e tra i pro c'è sicuramente il fatto che abbiamo la detenzione fisica, dobbiamo però metterli in una cassetta di sicurezza, ci sono costi associati più alti sia per l'acquisto sia per la detenzione, insomma c'è poca praticità nell'investimento in oro fisico. Ci sono però potenzialmente dei vantaggi di natura fiscale. Dall'altra parte potremmo investire in oro fisico attraverso degli strumenti finanziari, quindi ad esempio un ETC. Quali sono i pro? Sicuramente costi molto contenuti, non dobbiamo pensare di sotterrare l'oro in giardino o metterlo in una cassetta di sicurezza perché è oro stivato all'interno di un cavo all'interno di una banca e noi deteniamo una fettina di questo oro all'interno del cavo. Nella maggior parte dei casi per portafogli medi o piccoli, diciamo al di sotto dei 100.000 euro, ritengo che la scelta migliore sia l'investimento in oro attraverso un ETC e non in oro fisico. Ovviamente all'interno di un portafoglio più grande, come per qualunque classe l'investimento possiamo andare a fare delle fette più piccole e strutturare un portafoglio che possa prevedere anche la presenza di oro fisico. Consapevole che però c'è una complessità da gestire, che è proprio l'acquisto, la detenzione e anche la rivendita dell'oro fisico. È un processo molto ma molto più complesso che non comprare uno strumento finanziario che ha sottostante oro. E visto che come ti dicevo abbiamo già parlato di oro due anni fa nel 2020, Alberto dice, pecoraro, ancora pecoraro, incredibile, due anni fa dicevi l'esatto contrario. Avevi fatto un video in cui dicevi oro, ti vendo il mio, peccato che non te l'ho comprato, come se io avessi alluso al fatto che dovevamo liquidare tutti la nostra posizione d'oro. Comunque sono felice di non aver seguito il tuo consiglio e di essermi tenuto l'oro che avevi in portafoglio. Il video in questione è questo e purtroppo Alberto non ha capito il messaggio del video, perché quello a cui facevo riferimento è lo stesso concetto che ti sto spiegando in questo video. La posizione d'oro all'interno del mio portafoglio nel 2020, visto che l'oro aveva toccato nuovi massimi, era cresciuta in modo importante e io ho semplicemente ridotto la posizione dell'oro all'interno del mio portafoglio. Quindi ne ho venduto una fettina, non l'ha venduto tutto. Ho fatto quello che in termini tecnico si chiama ribilanciamento, cioè una classe di investimento ha assunto un ruolo troppo importante all'interno del mio portafoglio, è un po' come per le piante, periodicamente dobbiamo potarle, bene io ho potato questa posizione d'oro all'interno del mio portafoglio, ma l'oro è rimasto presente all'interno del mio portafoglio, l'ho semplicemente riportato a dei valori che per me risultavano ottimali. Da qui l'immagine e il titolo del video, se vuoi comprare oro tu lo compri da qualcuno che te lo vende ovviamente e quindi in quel momento c'era molta gente che voleva comprare oro, la domanda era ai massimi e quindi fondamentalmente in parte l'ha comprato anche da me. Chiarito quindi come inserire l'oro all'interno del nostro portafoglio, rinfreschiamoci un attimo le idee sul perché ha senso inserirlo all'interno del nostro portafoglio, sicuramente in un'ottica di diversificazione e i rendimenti del 2022 sono un ottimo esempio del valore della diversificazione, sono calate azioni, obbligazioni, non c'è stata classe di investimento che abbia retto nel 2022 ad eccezione dell'oro. Seconda ragione, viene percepito come una classe di investimento in grado di compensare l'inflazione, in realtà abbiamo visto che nel breve periodo non è in grado di tenere precisamente il passo dell'inflazione nel lungo periodo ha dimostrato di riuscirci, ma non è comunque qualcosa di matematico perché ci sono stati anni in cui il pretto è stato molto al di sotto dei massimi precedenti. Terza ragione, è una classe di investimento che tende ad essere un'assicurazione dei rischi sistemici, in particolare ad esempio quelli bancari, quindi non è un caso che in questo momento di forte instabilità dell'intero settore bancario, ne abbiamo parlato in vari video, ci sia un desiderio da parte degli investitori di togliere i soldi dalle banche e magari investire una quota parte all'interno del bene rifugio per eccellenza che è l'oro. Quindi possiamo considerarlo un'assicurazione dal disastro finanziario, come ad esempio ha dimostrato la sua efficacia nel 2008 quando ha toccato i massimi del periodo. Infine, un'ottima ragione per detenere oro all'interno del proprio portafoglio, e se ti chiederai quanto oro, parliamo di 3-5% del portafoglio, è perché? Perché lo detengono le banche centrali. Come dice Ray Dalio, il famoso fondatore del fondo Bridgewater Associate, nel commentare se preferisce avere oro o bitcoin all'interno del proprio portafoglio? Ha risposto, preferisco avere oro perché è la stessa classe di investimento che vogliono avere le banche centrali all'interno del proprio portafoglio. Perché a conti fatti oggi è ancora considerato a livello globale il bene rifugio per eccellenza. Se vuoi scaricare il pdf con tutte le slide, clicca il pulsante qui a la tua destra. Se vuoi rivedere il famoso video del 2020, ti invito calorosamente a farlo, guarda il video qui in basso alla tua destra. Se questo video ti ha dato valore, clicca mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!